Per tutti è Don Ben, sacerdote romeno di 44 anni, Don Benoni Ambarus, la capitale la conosce bene e bene conosce anche la Caritas di Roma perché da un anno era vice direttore. Ora è il nuovo responsabile della Caritas diocesana fondata da Monsignor Di Liegro. Ne ha ereditato la priorità, la scelta dei poveri e degli stranieri. Che cosa può fare secondo lei la Caritas di Roma per rendere più pacifica la convivenza con gli stranieri? Lo dico con una parola, incontriamoci. Dove non c'è l'incontro c'è il sospetto. Dove non c'è il guardarsi, riconoscersi viso a viso e l'altro è un nemico. Lei è romeno, è in Italia dalla metà degli anni 90, ha studiato a Roma. In questo momento è molto delicata la realtà degli stranieri nella capitale. Ecco, quale sarà il suo intervento? Io a volte faccio questo esercizio e penso da italiano e penso da romeno. Quindi mettendomi nei panni dell'uno e dell'altro mi rendo conto che a volte a noi sfugge una cosa molto semplice, che è una grande opportunità l'incontro tra le diverse culture, le diverse sensibilità, le diverse storie. Un pensiero oggi al suo predecessore, Monsignor Enrico Feroci, che ora è al Santuario del Divino Amore. Non ci rimane altro che continuare a rafforzare ulteriormente il suo lavoro che, sottolineo, è stato veramente grande.